Silvia, che cos'è che ti piace a te dei giapponesi? Cosa mi piace dei giapponesi? Allora, sicuramente la cortesia che mostrano nei confronti degli altri, perché non è una caratteristica comune in tutte le persone, quindi il fatto di essere sempre gentili nei confronti dell'altra persona sicuramente è bello, fa piacere vedere di essere trattati in maniera cortese. Poi, cosa mi piace dei giapponesi? Mi ha colpito davvero tanto l'interesse e la cura che i giapponesi mostrano nei confronti degli spazi pubblici. Ho scoperto che a Milano, ma anche in altre città italiane, ci sono dei raggruppamenti, dei gruppi, delle pagine Facebook di giapponesi che si ritrovano per pulire gli spazi pubblici, per pulire le strade, per pulire le piazze. Questa è una cosa meravigliosa, perché io vedo che gli italiani sono spesso, non tutti naturalmente, però spesso sono disinteressati a tenere pulite le strade, a mostrare rispetto per il paesaggio in cui viviamo. E invece i giapponesi spesso, quando camminano per strada, raccolgono magari una bottiglia di plastica e la buttano, oppure raccolgono le cartacce. Quindi la cura e il rispetto non solo per le altre persone, ma anche proprio per i luoghi comuni, gli spazi pubblici. È molto bello. E luoghi che... esatto. Poi luoghi che non sono neanche... In Giappone tu dici strano, solitamente uno in un altro paese non gli importa di questa cosa. Invece loro lo fanno nonostante comunque dovrebbero farlo gli italiani. Esatto, esatto. È quello che colpisce il fatto di dire io mi trovo in un posto e porto rispetto nei confronti di questo posto, a prescindere che io mi trovi a casa mia o in un altro paese. Esatto, esatto. Ma io infatti se non erro ho visto un video di alcuni giapponesi che pulivano Palermo. Perché Palermo poi è sporchissimo. Io ci vivo, quindi non è per discriminarla come città, però è vero, molto sporca. Certo. Poi comunque anche Milano. È un peccato. Anche Milano, le città italiane sono sporche in generale. Alcune più di altre, ma comunque... Forse è in Trentino perché lì hanno un trattamento particolare. È più pulito, ecco. Sì, sì, sì. Soltanto per quello. Sì, no, poi a me piace anche dei giapponesi il fatto che quando gli incontri per la prima volta, vabbè, forse perché siamo italiani, ci fanno il regalo, sempre questo regalino molto carino, che in Italia è difficile che, diciamo, si faccia questa cosa. Sì, il fatto di portare un pensierino alla persona con cui ti incontri. Sì, esatto. È vero. Esatto, è una bella cosa questa, mi piace molto. Poi, beh, mi piace il fatto che quando ti incontri con un giapponese per le prime volte, loro vogliano sempre andare a mangiare fuori in qualche ristorante goloso, no? Molto particolare comunque. Sì, è vero. Eh, sì, questa cosa è una cosa che, diciamo, anche gli italiani fanno, perché comunque anche la cucina italiana è buona come quella. Anzi, non saprei dirti se è meglio quella giapponese o quella italiana. Lascio decidere a gente, perché non posso dire. Sono diversi, sono buone entrambe, sono diverse. Sono due cucine diverse. Due cucine totalmente diverse, sì. Sì, la pizza però secondo me è un piatto tipo imbattibile. Ma la pizza ormai è un bene internazionale, dai. Esatto, esatto. Ma infatti anche in Giappone la mangiano, ovviamente. Però sì, dei giapponesi mi piace appunto questa cura per l'ambiente e anche il fatto che sono molto educati nel parlare con le persone anche al primo approccio, al primo appuntamento. È una cosa che rispetto molto e sono contento di questo. Io apprezzo, ma al tempo stesso non capisco come facciano i giapponesi a tenere le proprie emozioni dentro. Ho notato questa cosa. Forse perché è una caratteristica culturale che viene insegnata quando si è bambini. Per esempio, agli italiani spesso viene insegnato o comunque ci viene, come dire, veniamo spronati a esprimerci in qualche modo, anche quando siamo bambini, no? Quindi forse noi siamo un po' troppo schietti. Forse anche quando dovremmo magari tenerci le nostre emozioni per noi, quindi non dovremmo mostrarle agli altri, anche in quei momenti le mostriamo, no? E ho sempre ammirato, diciamo, la capacità giapponese di non far vedere tutte le emozioni che stai provando in quel momento per forza all'altra persona, che può essere, come dire, un vantaggio come uno svantaggio. Quindi non so se metterlo tra gli aspetti positivi o negativi, però mi ha sempre colpito questa caratteristica. Ebbè, sì, sì, è una caratteristica che... È un'arma a doppio taglio, come dici tu, capito? Può essere sia positiva che negativa. Sì, poi, vabbè, nei giapponesi mi piace il fatto che quando le incontri per la prima volta si nota proprio questo gap, gap dall'inglese vuol dire questo, diciamo, salto culturale totalmente diverso, perché infatti gli italiani sono abituati a salutarsi dandosi o il bacio sulla guancia o la stretta di mano o comunque contatto fisico. Invece con i giapponesi loro tendono a mantenere la distanza. Questa cosa ho notato, che non è per forza un aspetto negativo. Poi, soprattutto in periodo di Covid, è la cosa più saggia, quella di fare il saluto a distanza. Adesso sarebbe stato... No, no, vai avanti, vai avanti. Dimmi, dimmi pure. No, dico, sarebbe stato... Diciamo, probabilmente il Covid si sarebbe espanso di più se tutti si sarebbero salutati come gli italiani. Infatti, infatti, una delle cose più odiose del periodo del Covid era quando dovevi andare a trovare i parenti. I parenti volevano per forza abbracciarti, baciarti e non potevi dire di no perché sennò si offendevano. E allora però c'era il problema del Covid, quindi in Italia è stato difficile. È vero, quello sì. Una cosa che mi piace dei giapponesi, perché la condivido anch'io, è che probabilmente loro, quando conoscono una persona, non tendono subito a essere troppo aperti perché potrebbero anche conoscere una persona diversa da quello che si aspettano. Quindi tendono sempre a tenere la parte emotiva un pochettino più reclusa. Invece gli italiani sono più espansivi e quindi possono risultare anche magari fastidiosi perché sono rumorosi, come dicono molti. I giapponesi sono più educati nel presentarsi e poi penso, questa è la mia opinione, sono più riflessivi, nel senso che aspettano un po' di tempo prima di potersi confidare con i nuovi amici. È vero, sono d'accordo. Questa era una mia considerazione. Poi, beh, di altro che mi piace dei giapponesi è che spesso ci si ritrova tra gruppi, quindi i giapponesi non tendono mai a incontrarsi da soli, quelli in Italia che ho conosciuto. Ci sono sempre dei gruppi di amici, quindi è bello perché così si può condividere diciamo un'amicizia di gruppo e quindi si conoscono più persone, si può parlare con più persone. Questa è una cosa che mi piace, che poi è diverso secondo me dall'Italia, perché all'italiano è difficile che quando ti vuole conoscere esca con quattro amici insieme. Invece il giapponese, il giapponese penso che sia, allora è una scelta anche per la sicurezza di se stesso, secondo me, perché tu dici è più premuroso e dice ok, vediamo com'è se mi annoia, se questa persona, questo italiano è un po' fastidioso o parlo con i miei amici, perché così almeno cerco di andare via da quella situazione spiacevole. Quindi per questo devo dire che sì, questa è una cosa che mi piace, perché sono più attenti probabilmente alle persone che devono incontrare. Invece gli italiani, molti, tendono sempre a uscire con delle persone senza conoscerle, magari in ambienti dove diciamo sei a disagio, quindi è meglio andare sempre con qualche amico in più. Magari azzardano troppo gli italiani a volte. Sì, perché noi comunque magari, sai, siamo una cultura totalmente diversa, quindi siamo un po' americanizzati, possiamo dire, no? E quindi tendiamo magari a dare più confidenza, ma a volte è sbagliato. E quindi penso che i giapponesi su questo punto di vista diciamo siano un passo avanti. Posso dire un punto di vista esterno sugli italiani? Sì. Recentemente ho letto l'intervista a una ragazza americana che era venuta in Italia, nello specifico a Firenze, per studiare. È stata a Firenze sei mesi e una volta tornata in America ha detto a un giornale o comunque sui social network che non si è trovata bene in Italia, perché a Firenze pensava di trovare molte più studentesse come lei che volessero divertirsi tutte le sere, andare a fare festa tutte le sere e invece ha trovato persone che comunque a quanto pare non erano così festaiole come lei si immaginava. Quando ho letto questo articolo mi è sembrato interessante perché secondo me gli americani sono molto più festaioli nel periodo del college, quindi spesso magari loro si immaginano gli italiani in questo modo, che hanno questa fama di essere persone molto allegre che vogliono andare a festeggiare e in effetti è così. Però c'è anche da dire che secondo me c'è una differenza tra paesi, quindi a volte rischi di andare in un paese con un'idea e poi ci rimani male perché poi si rivela tutt'altro. Quindi mi ha incuriosito. È vero. È vero, sì, sì, questo è un classico comunque, no? Ti aspetti una cosa ed è totalmente l'opposto. Quello sì, sono d'accordo con te.